Il supporto di Builderall è stato sempre eccellente, uno dei nostri punti forti. Chi di voi utilizza già la nostra piattaforma sa che può contattare il nostro supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e riceverà sempre una risposta. L'assistenza clienti è il reparto all'interno della nostra azienda che riceve più attenzione e cura. Conosciamo l'importanza di questo reparto per i nostri utenti e facciamo di tutto per migliorarlo ogni giorno. I software di supporto disponibili oggi sul mercato non offrono più a Builderall l'eccellenza di cui abbiamo bisogno e richiediamo per servirti. O gli strumenti mancano delle funzionalità di cui abbiamo bisogno o semplicemente non sono sicuri e affidabili per i nostri standard, nessuno strumento disponibile oggi offre il livello di qualità che vogliamo offrire ai nostri clienti. Ecco perché con Builderall 5.0 abbiamo anche lanciato il nostro software per customer care sviluppato con tutte le funzionalità la potenza di cui Builderall ha bisogno. Offrire ai suoi oltre 500.000 utenti il miglior sistema di supporto del settore. Prendiamo così sul serio che siamo l'unica piattaforma di marketing digitale sviluppato un proprio sistema di supporto per servire meglio i propri clienti.